I should have known that you would leave me alone Perché devo cambiare? Che è tutta una roba strana che non ho mai fatto Oggi è un'opportunità, è un'opportunità per fare gol Sfruttiamola, facciamo un gioco di squadra Questo evento per noi è molto importante Perché riusciamo ad unire più aspetti della didattica, il discorso della salute e della sicurezza a scuola E poi l'ambiente L'ambiente è un qualcosa sul quale noi tutti siamo chiamati a un grande sforzo di responsabilità Mi aspetto grandi cose da voi, vi prometto che se quello che esce da voi è un progetto realizzabile Faremo di tutto per realizzare insieme Perché a me piace sempre molto ascoltare i giovani, le proposte che vengono dal basso Abbiamo bisogno tanto di voi noi in questo momento storico La vita è bella, la vita è piena di opportunità È piena di un sacco di cose da vedere, da scoprire, da studiare, da migliorare Siamo noi che lo dobbiamo fare È un cambiamento culturale Considerare i ragazzi atleti, persone e non disabili è un cambiamento culturale Formare dei professionisti per andare in campo è un cambiamento culturale Educare le famiglie A far fare sport, a prendersi un impegno è un cambiamento culturale Quali sono le cose che ti piacciono di più di questa squadra? Mi piacerebbe tanto giocare con me una vera squadra di calcio Che diventiamo grandi calciatori tutti quanti E che ci aiuteremo sempre a vicenda Andare avanti con coraggio, sì Perché il coraggio ce l'abbiamo tutti E non sparirà mai Grazie Grazie This time Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti